Storia, arte, cultura, gastronomia, tutti gli appuntamenti di Weekend da Scoprire. Venerdì 27 ottobre a Frosinone alle 17 presso il Salone di Rappresentanza della Provincia per il Teatro e le Voci, la Compagnia Teatro dell'Appeso promuove e organizza la serata Bragaglia & Company. Sabato 28 a Castrocelo alle 17.30 presso la Chiesa di Santa Lucia si terrà Diamo Voce alla Vita, tavola rotonda sul tema della prevenzione oncologica con intermezzo musicale. A Pastena dalle 19 appuntamento con Un Paese Divino, percorso enogastronomico tra i vicoli e le piazze del Centro Storico con intrattenimento musicale. A Colle San Magno dalle 19 nel Borgo Antico di Cantalupo appuntamento con la rievocazione storica della Notte delle Streghe e dei Briganti, percorso enogastronomico e culturale a tema animato da musica e artisti di strada. A Bovillernica sabato dalle 18 e domenica dalle 11 appuntamento con la prima edizione di Divin Boville, rievocazione medievale per le vie del Centro Storico, cantine aperte, stand gastronomici, musica, artisti di strada, tiro con l'arco, sbandieratori, falconieri e artigianato, servizio navetta gratuito. Domenica 29 a Terelle, dalle 10.30 in Piazza Crolla e in Piazza Biondi, secondo appuntamento con Aspettando la 39esima Sagra delle Castagne, convegno, tavola rotonda, distribuzione delle castagne e intrattenimento musicale. Per inviare le vostre segnalazioni scriveteci a weekend-teleuniverso.it